Camillo D'Alessandro difende la scelta di Regione Abruzzo di affidare in ausi i servizi di trasporto pubblico locale a Tua, separandoli da quelli di natura commerciale. Non ci saranno esuberi né licenziamenti, garantisce il consigliere regionale delegato ai trasporti, ribadendo che nessun comune sarà penalizzato. D'Alessandro è tornato anche sulle critiche arrivate al progetto da parte della CGL, che ha anche proclamato uno sciopero del settore per il 15 settembre. Non può essere che i soldi del trasporto pubblico locale servino a finanziare corse commerciali, se il pubblico vuole fare il commerciale deve essere competitivo al pari dei privati, altrimenti le perdite che noi registriamo sulle corse commerciali non possono essere finanziate dai fondi del trasporto pubblico locale. Noi non solo procederemo a garantire tutto l'attuale personale in organico a Tua, ma assumeremo anche altri giovani, chiaramente a parametri più bassi nella commerciale. Facciamo una scommessa pubblica, se verrà licenziata anche una sola persona, io mi dimetto. Se invece neanche una sola persona verrà licenziata, chi l'ha detto dovrebbe fare un passo indietro nella funzione di rappresentanza che hanno. D'Alessandro ha ripercorso il cronoprogramma che entro il prossimo 30 settembre porterà l'affidamento dei servizi a Tua, che è stato preceduto dall'approvazione della legge regionale che ha istituito l'ente di governo e dalla sottoscrizione delle intese con tutti i comuni in cui Tua già gestiva il servizio. Annotazioni anche sulla situazione di sistema, l'altra partecipata da Tua e da alcuni operatori privati, che si occupa dei servizi collaterali come la billettazione. La regione sta lavorando a una soluzione sul futuro dell'azienda e sul mantenimento dei 46 posti di lavoro. In settimana ci sarà una riunione per individuare l'iter che ottemperi alle nuove prescrizioni statali. Sull'AMA, la società di trasporto pubblico del comune dell'Aquila, infine D'Alessandro ha confermato la disponibilità della regione a procedere all'acquisizione della società da parte di Tua entro il prossimo 30 giugno.